Ingredienti per ripieno Ingredienti per ripieno Mentre i petti cuociono, preparare la salsa frullando le castagne rimaste, aggiungendo un po' di fondo di pollo per il rimanente della riduzione. Togliere i petti dal forno e tagliare in fette e servirle su un piatto con la salsa e un rametto di prezzemolo per decorazione. Togliere i petti dal forno e tagliare in fette e servirle su un piatto con la salsa frullando le castagne rimaste, aggiungendo un piatto con la salsa frullando le castagne rimaste, aggiungendo un piatto con la salsa frullando le castagne rimaste. Togliere i petti dal forno e tagliare in fette e servirle su un piatto con la salsa frullando le castagne rimaste. Togliere i petti dal forno e tagliare in fette e servirle su un piatto con la salsa frullando le castagne rimaste. Togliere i petti dal forno e tagliare in fette e virати e servirle su un piatto guara s'intestate a cura. Grazie a tutti!